Musica 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 Per niente facili Uomini sempre poco allineati Li puoi cercare i numeri di ieri Se nella notte non li avranno cambiati Per niente facili Uomini sempre poco complizzati Li puoi vedere fra i pensieri di ieri Se non ci erano scordati Sarà la musica che gira intorno Quella che non ha futuro Sarà la musica che gira intorno Faremo noi che andiamo nella testa Maledetto Sarà la musica che gira intorno Quella che non ha futuro Sarà la musica che gira intorno Faremo noi che abbiamo nella testa Maledetto Un'intervista, un ospite Dieci minuti di attualità Dalle Emilia Romagna e dal mondo Sono Alberto Maio Vi aspetto il sabato alle 18.05 Qui, fuori di treni 60 Contra la Tierra Radio Italia anni 60 Le italiane di successo Le straniere chupamote Che trattoria Il portacanale È un'intervista È un'intervista È un'intervista Maio Batti C'è un'intervista Il portacanale